aiuto chissà se ce la vorrà registrare questo video è aperto ciao a tutti amici e amiche bentornati e bentornate in questo nuovo video allora sto parlando a bassa voce perché sono in giardino oggi non sono a casa mia sono a casa dei miei sono venuta dai miei a mangiare qui nella loro casa al mare e siccome sul tragitto per venire qui mi sono fermata un attimo da una parte vi voglio far vedere quello che ho acquistato io spero che si senta qualcosa però non posso gridare più di tanto anche se non so se si sente ci sono dei tuoni allucinanti io sono all'aperto adesso vi faccio vedere un attimo che cosa c'è sopra di me giusto per rendervi conto ecco qui che bel tempo una meraviglia ecco qui tempo meraviglioso e io sto registrando qui fuori in queste condizioni siccome questo canale la tragedia è sempre dietro l'angolo infatti nello scorso video ho rischiato che esplodesse il condizionatore però alla fine sono viva perché sto registrando questo video però il rischio che io da un momento all'altro me ne possa volare insieme al tavolino e al telefono è molto alto quindi se mi vedete lievitare perché la tromba d'aria mi sta portando via con lei allora sto registrando con il sto registrando con il telefono perché questo è uno di quei video improvvisati che non pensavo di girare non ho la fotocamera come quindi sto registrando con il telefono quindi se si sente male o se non si vede benissimo è per quello allora dicevo qui sta per scatenarsi l'apocalisse e io sto girando un video bella tranquilla io e le mie cose improbabili nel tragitto per venire qui a casa dei miei mi sono fermata in un negozio perché avevo finito le spugnette struccanti riutilizzabili e quindi mi sono fermata lì per acquistarle ho lavato i capelli sono bagnati e si stanno appiccicando al rossetto vabbè comunque dicevo oltre le spugnette struccanti ho trovato qualche cosin'altra che vi farò vedere quello che ho acquistato oggi è in questa busta allora io me la metto ok ce la possiamo fare oggi ho speso 13 euro e 43 centesimi l'ho acquistato questo set di mollettine per i capelli melissa accessories le ho pagate queste sono 4 mollettine io le uso quando porto il ciuffo in alto lo fermo con questo tipo di mollettine oppure un fermaglio vado pazza per le stelline e le ho pagate 90 centesimi quindi questo è il primo aggeggio che ho acquistato l'ammorbidente che sto utilizzando in questo periodo che mi piace da matti è uno dei nuovi coccolino il coccolino intense da 38 lavaggi questo è la fragranza cielo blu l'ho provato per caso qualche mese fa perché avevo finito il mio io uso sempre il lenore quello blu però siccome era terminato ho preso questo perché non c'era nello scaffale e ho preso questo sono letteralmente innamorata di questo morbidente io che reputo il lenore il migliore devo dire che questo lo supera di un bel po sia come morbidezza dei capi sia come profumazione la profumazione rimane molto più a lungo si capi rispetto all'enor che uso comunque siccome mi piace un attimo siccome mi piace alternare gli ammorbidenti sto utilizzando sia l'enor che questo quindi l'ho trovato e l'ho preso e l'ho pagato questo l'ho pagato 2,50 euro qui stanno arrivando tutti tutta la fauna mi sta arrivando addosso tutta la fauna è assolutamente conveniente considerando che quello precedente che ho acquistato da Ipercop ho pagato 2,89 euro poi il motivo per cui sono andata in questo negozio ho acquistato le spugnette struccanti riutilizzabili e questa marca non l'avevo mai provata vi ho parlato di queste spugnette in diversi video passati anche quello sulla mia skin care si e ne so acqua massage c'è scritto sopra viso leva trucco dischetti in cellulosa naturale rimuovono ogni traccia di trucco detergendo delicatamente il viso cellulosa 100% naturale due pezzi dietro c'è scritto colori atossici ricecuare prima e dopo l'uso dietro c'è questa rappresentazione grafica di tutti i simboletti alla certificazione iso 9001 che è un tipo di certificazione di qualità acquistate due confezioni io con una spugnetta ci posso un mese e le ho pagate le ho pagate le ho pagate mollette capelli arex spugna 1 euro e 62 confezioni quindi la metà quindi una confezione l'ho pagata 80 centesimi quindi 40 centesimi a spugnetta quando ho provato queste spugnette ho eliminato i dischetti di cotone perché trovo bene così ultimo acquisto ho acquistato un paio di scarpe sì perché questo negozio è una specie di epicasa però in più all'interno c'è abbigliamento e scarpe non stavo cercando un paio di scarpe devo dirvi la verità però quando le ho viste ho visto che erano anche in saldo ho iniziato a guardare meglio il mio numero era terminato perché io il 38 però c'era il 37 ho detto ora proprio il 37 se mi dovesse andare bene le prendo ho provato il 37 e mandava benissimo quindi le ho assolutamente prese allora la marca è questa diamantique questa è l'etichetta allora alla fine ho preso il 37 da 11 90 le ho pagate 8 euro e 33 c'era il 30 per cento di sconto stavo per fare lo scioglilingua 8 euro e 33 capito ho capito mi sbrigo se faccio vedere allora sopra c'è scritto champagne però secondo me non sono champagne secondo me sono oro rosa sandaletto elegante in ecopelle lucida cinghietta dietro poi produttori erano daltonici oppure non lo so sono confusa io però sinceramente qua c'è scritto champagne le scarpe sono oro rosa sono davvero stracomode comunque è una scarpa elegantina barra che cioè secondo me perché la puoi mettere sia sotto un vestito elegante che sotto a un jeans o un pantalone questo acquisto è stato davvero un affare il video è terminato io ce l'ho fatta mi sono salvata ho registrato prima che mi porti via la tempesta grazie per avermi tenuto compagnia io e la tempesta vi salutiamo e vi diamo appunto al prossimo video ciao